La Palacanestro Cantù e la Palacanestro Varese hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera. Hanno e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore e nella mia mente. Con loro ho disputato più di 70 derby vestendo la maglia dell'una e dell'altra. È arrivato il momento che Varesini e Cantorini indossino la stessa maglia, la maglia della solidarietà, per affrontare e contribuire a vincere contro un avversario che in questo momento è l'avversario di tutti, il coronavirus. Pertanto vi invito a fare una donazione che andrà a favore della Croce Rossa di Cantù e dell'ospedale di Circolo di Varese. Forza Varese! Forza Cantù! Insieme vincerete! Forza Cantù! Forza Cantù! Forza Cantù! Grazie a tutti